Dopo l'inaugurazione il punto prelievi di via Passalacqua a San Vito è operativo e attivo tutti i venerdì mattina, dalle 7 alle 9. Come noto sarà la cooperativa alla goccia di Marostica a gestire il servizio. Abbiamo pensato di essere proprio vicine persone fragili, chi ha bisogno di velocemente, senza tanto tempo, senza tante distanze, fare un prelievo e avere dei risultati subito, veloci. Il servizio è accessibile su prenotazione telefonica, il numero che vedete in sovraimpressione, attivo tutti i mercoledì, dalle 11 alle 13. I prelievi li portiamo all'Ulse che vengono processati e quindi si hanno velocemente i risultati. Il cittadino può quindi dopo trovare i risultati delle analisi normalmente o tramite internet o presso le sedi amministrative o anche qui. Sono due le persone che saranno presenti nella struttura, ci sarà un infermiere e una segreteria. Le prenotazioni vengono fatte oggi in periodo di Covid, ovviamente devono essere fatte precedentemente e quindi dopo la prenotazione la persona viene senza aspettare moltissimo e subito può fare il prelievo.